Guarda, sono davvero felice per lui perché è un bravissimo ragazzo, è un ragazzo che lavora seriamente è un ragazzo, non ti abituare è un ragazzo che comunque si impegna, che ha messo sempre il massimo che tante volte è stato messo in discussione però credo che i frutti poi si vedano quindi è entrato 10 minuti, un quarto d'ora, non lo so di preciso ha lottato su tutti i palloni e poi anche a noi ci ha ripagato perché credo che oggi si sia visto un Vicenza superiore al Pordenone non meritavamo di perdere cioè non meritavamo di pareggiare, figuriamoci di perdere però nel contesto siamo contenti per la prestazione un po' meno per il risultato perché comunque credo che questo Vicenza oggi meritava di più diciamo che siamo stati furbi perché quello è vero loro su quella situazione là, diciamo, tra virgolette hanno un po' dormito, come si dice Ale io volevo metterla in mezzo Ale mi ha detto guarda, te la stop e te la do vediamo se è buona, lui l'ha stoppata, l'ha messa per terra abbiamo calciato subito e poi quando sono andato a metterla in mezzo sono sincero, ho visto una marea di maglie verde e nere ho detto la metto davanti a tutti sperando che qualcuno ci sia dall'altra parte è arrivato Tommy e credo che sia giusto premio per questi 95 passaminuti fatti di grande grinta, di grande lotta, di grande voglia di vincere però purtroppo il risultato e quel saltino che meritiamo di fare non è arrivato nemmeno oggi però ci prendiamo la prestazione fra tre giorni si rigioca è già tempo di cancellare questa partita per poi pensare all'altra una squadra forte che meritatamente prima in classifica per continuità di risultati però ripeto non credo che abbia giocato il male il Pordenone credo che ci sia stato un gran bel Vicenza che oggi ha battagliato su ogni palla e io continuo a dire perché ero incavolato dopo il gol preso soprattutto per quello che stavamo facendo perché non meritavamo forse nel momento dove dovevamo spingere perché comunque avevamo rifiatato quei 5-10 minuti il secondo tempo dopo un primo tempo secondo me è andato a mille e abbiamo preso coso quel calcio piazzato però il calcio è questo quindi ci siamo rimboccati le maniche ci abbiamo creduto ed è giusto premio che abbiamo ottenuto per poi dare continuità a questi risultati che credo sia la cosa più importante guarda sono sincero il gol manca il gol manca perché c'eravamo abituati tutti un po' troppo bene io per primo però devo continuare a lavorare come sto facendo perché credo sia sabato scorso che oggi ho dato il giusto la giusta voglia e grinta che serviva alla squadra per quanto riguarda quella fascia là credo che abbia fatto un grande primo tempo la nostra corsia di Mancina e abbiamo creato tanto io con Cine mi conosco a memoria so i movimenti Marco si sta inserendo secondo me molto bene secondo me anche lui è un'altra grandissima persona prima di tutto e un fortissimo giocatore quindi pian piano cresceremo anche sotto il punto di vista del gioco e oggi si è visto credo poi il gol sono convinto che arriverà più ci penso tanto e meno arriva quindi devo continuare a lavorare devo continuare a provarci sabato ho avuto due o tre occasioni oggi ne ho avuto una nel secondo tempo quando ho calciato a giro però devo continuare a lavorare duramente come sto facendo perché la gamba c'è e credo che quella sia la cosa più importante sì sì speriamo che sia sia la giusta partita per tornare a far gol l'andata è stata una partita perfetta credo forse una delle più delle più belle viste quest'anno al ritorno sarà tutta un'altra storia loro sono forti oggi hanno perso a Trieste quindi saranno ancora più incazzati e noi andremo lì ancora più incazzati loro per cercare di portare a casa i tre punti perché sono convinto che questa squadra è capace anche di vincere a Monza grazie grazie grazie